Papa Francesco spera che nel prossimo vertice di Parigi sui cambiamenti climatici, organizzato dalle Nazioni Unite a dicembre, si raggiunga un accordo fondamentale e di base. Lo ha confidato parlando a braccio, in spagnolo, ai 70 sindaci di tutto il mondo riuniti in Vaticano dalle Pontifici Accademie delle Scienze e delle Scienze Sociali per confrontarsi sulle nuove schiavitù e i cambiamenti climatici. Le Nazioni Unite, ha aggiunto, devono interessarsi con molta forza a questo fenomeno, soprattutto al traffico delle persone provocato da questo fenomeno ambientale. Citando più volte la sua ultima enciclica, Laudato Si, Papa Francesco ha denunciato ancora l'idolatria della tecnocrazia, che deruba il lavoro, soprattutto quello agricolo, crea disoccupazione e quindi migrazione e provoca malattie rare con l'uso eccessivo di fertilizzanti. Legato a questo è anche il fenomeno della tratta delle persone, sempre più sottoposte al lavoro in nero, che non riescono a guadagnare quello che serve a sopravvivere e questo alimenta la delinquenza. Quindi il Papa ha chiesto ai sindaci di essere coscienza del cambiamento, perché se il lavoro non parte dalle periferie, verso il centro, non ha effetto. Riferendosi infine alla sua enciclica, Papa Francesco ha ribadito che non è un'enciclica verde, è un'enciclica sociale, perché nella società, nella vita sociale dell'uomo, non possiamo separare la cura dell'ambiente e prendersi cura dell'ambiente significa avere un atteggiamento di ecologia umana.